Io a certe volte mi chiedo, ma chi me l'ha fatto fa? E a tutti ragazzi che siamo in questo video, oggi ragazzi siamo qui, tornati in questa nuova parodia! Come ho promesso ragazzi, oggi siamo con questi maledettissimi occhi azzurri. E tu, ho una proposta da farti, se questo video raggiunge i 20.000 like, entro la mezzanotte, il prossimo video lo vedrai con le lenti bianche, poi tutto il resto del mese lo vedrai comunque con le lenti azzurre. Mi raccomando, sfonda quel tasso di like e niente, buona continuazione del video! Madonna ragazzi, se ce l'avessi sempre così, in questo momento ci avrei un milione di iscritti. Per un mese ragazzi farò un video con queste lenti perché appunto ho perso la scommessa, di nuovo. Comunque ragazzi, detto questo, oggi siamo qui per fare la parodia parodiosa di la ragazza che continua a dire, ok. Per questo video ragazzi, mi raccomando, raggiungiamo i 21 like perché sto anche con gli occhi azzurri, quindi niente, cominciamo! Allora, tetta di cazzo. Oh ma, ciao anche a te, eh! Io, nelle foto, sono una grandissima gnoccona. Le ragazzine, nelle foto, una grandissima gnoccona, una grandissima gnoccona, una grandissima gnoccona, cioè come me, una grandissima gnoccona! Gnoccona, cioè ragazzi, non ti gnoccona, ecco, lei è così nelle foto, lei è una grandissima gnoccolona! Ok, ok, ok. Ok. No, tu adesso mi devi ascoltare. Oh, cosetta! Non ho cominciato a far così che mi permetto e vengo là e te spacco il telefono, eh! Capito? Non sto scherzando! Se io porco... Non pensavo fosse così trash. Guarda, ma non farmi spremiare che te spacco la casa. Ma io vengo là e ti schiaccio tutti i fiori per terra e te, 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 te lancio il criceto contro il muro, eh! Allora, arriva amico avendo raccorto che c'era anche l'amica sua, ma chi l'aveva vista? Io sto facendo i video e risposte, sono video, tu mi puoi vedere, capito? Mi puoi vedere. Sì, te so, ce l'ho pure l'occhio, te vedo, perché grazie a Dio, ce l'ho l'occhio, quindi te posso vedere. Poi sono pure azzurri, cioè, quindi ancora mei. Sai, quindi te vedo, te sento, sai, quindi mi raccomando, eh, sai, karma che qua già me sta a partire, eh! Me sta a partire, azzurro! Come cazzo faccio il serio? Ho cominciato da vivo. Sì, adesso sto facendo i video, dai, adesso dimmelo, dimmelo, dimmelo! Oh, ho cominciato a nuovo alterare che guardate, vado di là, vado a piano a sedia e te lo lancio contro la televisione, così te lo spacco! Ma la puoi solo leccare, non me la lecchi, ma tanto, ma... Io passo. Tanto, ma potent, ok? 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 Basta. Ok, va bene, ma fai, fai come ti pare, zia! Va bene, ok! Ok, per me se facciate la capacità, è quella che sta a partire, sta a partire, do no! Ok! Va bene, ok, 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 stiamo a calmi, ok. Ok, 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 ok. No cu, la troia di merda puttana, zoccola. Poi Schifosa laida Troia Bastarda Coglione Che puttana Muori Muori No vabbè Stupendo il modo Che mi ho detto Allora ragazzi Spero che questo video Se vi sia piaciuto Se ci raggiungiamo E 20.000 like Poi ragazzi Mi raccomando Seguitemi su tutti i punti Sociali e trovate i link Sotto la descrizione Se ne sono state Iscriviti Iscriviti E niente Grazie a tutti Ciao 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 Ciao